Ciao, ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video ASMR Oggi vi mostro i miei regali di compleanno Purtroppo sì, è arrivato quel momento, è arrivato quel giorno Non so quando caricherò questo video Ma credo qualche giorno dopo il mio compleanno Il mio compleanno è il 10 novembre Quindi non so quando è che caricherò questo video Il giorno stesso, qualche giorno dopo Allora, iniziamo subito con i regali Sono normali, non sono regatanti Quindi, semplici, classici Allora, devi iniziare Allora, ovviamente, pigiamino Tanto per cambiare È un pigiamino carino Con gli alberelli di Natale Semplice, normale Niente di così strano Però, sapete, ho la passione per i pigiamini Quindi, pigiamino sia Ovviamente, allora, tutti i regali che ho qui Quindi non è che li ho proprio ricevuti Come regalo da scartare Diciamo che Magari la mia famiglia Così così mi hanno dato soldi E quindi, con quei soldi Ho comprato cose che volevo Che mi servivano E quindi, diciamo che le ho più o meno Le ho scelte io Bigiamino Poi Ho preso questo Per il telefono Speravo fosse abbastanza lungo Gravita per Metterci anche l'ipad Ma non lo è E nulla, questo lo attacchi Alla scrivania O alla testata del letto Dove ti pare E nulla E ci metti il telefono E lo puoi come vuoi E straduro sto coso Infatti Mamma mia Ti fai benissimo per Aggiustarlo comunque Questa robetta ho preso Ovviamente Mi sono presa Vedrini di ricambio per il telefono Non si sa mai Ne ho presi cinque Poi Altri vestiti Ho preso Questa maglietta che è un po' stropicciatina Comunque Una Boluta Perché era corta E bella attillata da mettere tipo sotto i maglioni Sembra tanto freddo Quindi questa ci sto Secondo me È leggera Non è tanto pesante Quindi La puoi mettere anche a mezza stagione Poi Altra magliettina Che è più Tipo un maglioncino Sempre corto Sempre corto Così Canina Allora se è grigia Ed è calda È abbastanza pesantuccia Poi Poi Cose varie Oggettini vari Infatti Mi sono presa Questo Sempre Spruzzi l'acqua E Perché quello che avevo prima mi si era rotto Poi Calze Queste 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 sono belle pesanti da mettere con le gonne o con i vestiti in inverno Quindi Belle Approvate Mi sono piaciute Vedete Non si vede neanche tanto la trasparenza Quindi mi piace Che così non prendo troppo ferrito Se voglio mettere una gonna o un vestito Poi Questa Si capisce sono fiori figli che volevo mettere tutto sulla scrivania Chiarina Chiarina ci sa E poi Due cover Per il telefono android Allora ho preso questa Ma sono rimasta un po' delusa Il disegno È tutto Sfibrato Strano Non so non si vede tanto nella Nella cam però Ma un po' delusa In più di che E poi Ce l'ho sul telefono stesso Questa C'è C'è Questa Che è tutto così In più di che In più di che In più di che Volevo altre cover Perché quelli che avevo si stavano già rovinando Quindi Quindi Poi Ultime due cose Così no Della Della serie tv Di mercoledì Speccanino Bello E E E È un diffusore Di aromi E Fa anche da umidificatore Carino E E Nulla Questa è la fine Regali semplici Regali semplici Ma Niente Ci vediamo al prossimo video Ovviamente farò anche il video dei regali di Natale E Ovviamente Che uscirà per Natale Più o meno E E Nulla Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi